Il mio mondo cambiò all'improvviso quando delle carte cominciarono a cadere dal cielo sulla terra. All'inizio sembravano innocue, così noi ragazzi inventammo un nuovo appassionante gioco. Ma presto ci accorgemmo che non lo erano affatto e che erano dotate di incredibili poteri provenienti da un altro mondo. Mi chiamo Dan e insieme ai miei amici Runo, Marucio, Julie, il grande esperto in persona Sean, e Alice formiamo la squadra dei combattenti Bakugan. Bakugan, un obiettivo, due monite. La prova di Marucio. I sei cavalieri leggendari di Vestronia che abbiamo incontrato nella dimensione del destino hanno deciso di mettere alla prova me e i miei compagni. Chissà in cosa consisterà la mia. Aiuto, sto per sentirmi male. Dan, Sean, Runo, Julie, ma dove siete? Penso che i ragazzi siano finiti da un'altra parte. Scommetto che siamo soli, questa l'anda desolata, condannati a pagare senza meta. Ehi, aspetta, per caso hai sentito anche tu quello strano verso? Sarà il mio stomaco, non mangio da secoli. Ti spiagerebbe scendere dalla mia schiena? Sono desolato, si sente bene chiunque lei sia. Sì, no. Ho bisogno di acqua, acqua. D'accordo, lei sa dove possiamo trovarla. Oltre quella montagna ce n'è un'altra dalla quale sgorgo una sorgente nascosta nel bosco. Là troverete l'acqua. Ok, ci vado. Non lo so, in effetti mi sembra un po' troppo lontano. Non gli dia retta, andremo alla sorgente. Prendi questa, ti servirà per trasportare l'acqua. Ok, torneremo subito. Un momento, non direi sul serio, vero? Sono sfinito. Finalmente siamo arrivati in cima alla seconda montagna. E la terza, ci siamo fatti prendere la mano. Prenda, 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 prenda. Mi seccherei se mi si restringesse il vestito. Anch'io sono fradice. Guarda, è la sorgente. Davvero? Ecco qua, beva, signore. È ancora fresca. Ora va meglio. Io ti conosco. Sei l'antico soldato Aquos. Ti chiami Frosk. Hai un cuore puro pronto ad aiutare chi è in difficoltà. Credo che tu abbia le qualità per diventare uno dei nuovi soldati. Cosa? Oh, sentite il vecchio furbacchione. Avrei dovuto capirlo. Questa era la mia prova. È così, vero? No, mi spiace. La tua vera prova comincia proprio... Adesso! Ma che è successo? Ho appena fatto il bagno. Oh, no! Giuro che poi mi mando il conto della tinteria. Bene, miei piccoli naufraghi. Se volete rivedere i vostri amici dovrete prima sconfiggere il mio perriero. Ray, un momento. Se tu sei qui, come puoi essere anche lì? Ah, siete diventati due! Smettila di dire sciocchezze. Non può esserci un altro me. Quello laggiù deve essere qualcuno che cerca di imitarmi. Bel colore di capelli. Grazie, piace anche a me. E ora possiamo cominciare. Bene, ci divertiremo. Carta portale in posizione! Beh, immagino di non avere scelta. Carta portale in posizione! Comincia con Aquos Warriors. Ok! Bakugan, combatti! Aquos Warriors, trasformazione! Essendo un soldato acqua, sia naturale che tu scelga di combattere con un Bakugan di attributo acqua. Farò lo stesso. Bakugan, combatti! Aquos Limulus, trasformazione! Bakugan, fronti! E ora Acquos Assedio! Sì, è un'ottima scelta! Carta portale in posizione! Preparatevi perché finora non avete ancora visto niente! Bakugan, combatti! Acquos Assedio, trasformazione! Quattrocento G contro trecentocinquanta! Adesso tocca a me! Carta portale, apriti! Acquisizione di energia! Cento G di energia si trasferiscono da Aquos Assedio ad Aquos Limulus. Livello di potenza di Aquos Limulus quattrocentocinquanta G. Alla pazza tua, Acquos Assedio! La mamma non ti ha insegnato che rubare un reato? Carta abilità attivazione! Acquos Giavellotto! Prendi Aquos Assedio! Scambio di carte portale! Acquos Giavellotto permette di scambiare le carte portale adiacenti! Ehi, mi ha appena rubato la mia carta portale! Sei un ladro! Cento G vengono ritrasferiti da Aquos Limulus ad Aquos Assedio. E adesso? Carta portale, apriti ora! Dato che questa è la carta personaggio di Aquos Assedio, la sua potenza raddoppia! Accidenti! Non avevo mai visto un'abilità del genere prima d'ora! Bravissimo, vai forte mio piccolo Maruccio! Sei un bambino bravo e tanto obbediente, non è vero? Io faccio del mio meglio! Capirai! Quel burattino fa tutto quello che gli suggerisce il vecchio! Andiamo Maruccio, non ascoltare le sue sciocchezze! Tu sei diverso da quell'impostore! Bravissimo, sei un bambino tanto obbediente! Mi aspetto che tu vinca anche il prossimo round! Sì, prometto che non deluderò le tue aspettative! Ma allora lui è... Avanti parla, sto diventando nervoso! Quel Maruccio non è un impostore! No, lui è reale quanto lo sono io! Devi essere impazzito! Se lui è il vero Maruccio e anche tu sei vero, allora... Lui è soltanto diverso! Lui è esistito tanto tempo fa! Pensavo che fosse scomparso! Maruccio tesoro, il tuo insegnante di economia mi ha detto che verrà qui nel pomeriggio, quindi per favore torna subito a casa dopo la scuola, d'accordo? Sì mamma, va bene! So che vorresti giocare, ma ricorda che prima viene lo studio! E di qui a presto, si lancia! A me, a me, a me! Forza sempre! Ah, bravo! Leati loro! Forza! Dai! Tu non puoi perdere tempo come gli altri bambini, sono sicuro che lo capisci, vero figliola? Certo papà, lo capisco! So che ti sembra ingiusto, ma è molto importante In futuro il buon nome della nostra famiglia sarà nelle tue mani, ragazzo mio Sì, prometto che non deluderò le vostre aspettative Basta, non ti sopporto più, togliti dalla faccia, quell'aria sottomessa! A quanto pare abbiamo toccato un tasto dolente Dimmi, cosa c'è che non fa nel vecchio baruccio obbediente Che non tradiva le attese dei genitori e faceva del suo meglio per compiacere? Ma certo, solo adesso ho capito Devo riuscire a scendere a patti con il mio passato, ho indovinato! Ok, in questo caso dimostrerò entrambi quanto sono cambiato Attento Maruccio! Carta portale in posizione! Ehi, aspetta un attimo! Adesso vedrete che non sono più lo stesso di allora Bakugan, combatti! Aiuto, mi giro la testa! Freyas, trasformazione! Maruccio, che cosa ti è saltato in mente? Oggi non mi sento fatto bene Non so come vai Ma ho voglia di sapori aspri! Concentrati Freyas, voglio che cambi il tuo attributo in Darkus Si può sapere che cosa ti prende, ragazzo? Oggi non sei il solito mattacchione Devo vincere questa sfida, quindi fa come ti dico Sì, va bene, ho capito A noi due, vecchio buffone! Cambio di attributo! Darkus! Fatto! E tu pensi di poter vincere grazie a un cambio di attributo? Se continui di questo passo non batterai mai il mio Maruccio Sappi che per quanto possa cambiare Freyas è sempre Freyas Lui è e rimane il mio miglior amico, è chiaro! Non può perdere contro il vecchio me stesso Perché lui è soltanto un debole E io ti dico che è tutto da vedere Carta portale apriti a nulla cambio E che cosa succede adesso? Niente di buono, vero? Oh no! Mi ha fatto tornare all'attributo Darkus No, non mi piace, giusto? Questa è veramente una pessima notizia Cartabilità attivazione! Invisibilità blu! Sto scoprendo! 50 G trasferiti da... Cartabilità attivazione! Invisibilità blu! Sto scoprendo! 50 G trasferiti da Assedio a Freyas Anche grandi possono cadere! Cosa? Povero me! Mi sento col peggio di prima! Scusami Freyas Ma è come se conoscesse già le mie tattiche E anticipasse tutte le mie mosse Ma è logico In fondo stai combattendo contro te stesso Nel passato o nel presente sei sempre lo stesso Questo non è affatto vero Non somiglio al ragazzino che obbediva sempre senza mai protestare Detesti così tanto ciò che sei stato in passato? No, è come! Anzi no, lo disprezzo! Per quanto mi impegnassi non era mai abbastanza Avrei voluto dire ai miei genitori come mi sentivo Ma non ci riuscivo ed ero sempre più triste Ma da quando ho conosciuto il gioco del Bakugan La mia vita è cambiata Quando ho incontrato i combattenti e poi anche Freyas Ho imparato a pensare con la mia testa Ho imparato a combattere e a ridere E a vivere la vita fino in fondo Ora capisci perché non posso perdere contro il vecchio me stesso Povero sciacco È davvero tutto qui quello che hai imparato dai tuoi amici? Vorrei procedere con battaglia tripla Carta fortale, in posizione! Bakugan, combatti! A post assedio, trasformazione! Dobbiamo fare il possibile per superare la prova, d'accordo? Sì, d'accordo Bakugan, combatti! Freyas, trasformazione! Ehi, ricordati che oggi non mi sento bene E aspruma, buonissimo Non posso affrontare due round di fila Sta tranquillo, tu lascia fare tutto a me Assedio 400G, Freyas 340 Presto, gioca una cartabilità Sì, certo, subito Cartabilità, attivazione, ramento d'acqua Ehi, non avevo ancora finito Oh no, Maruccio si è fatto soffiare la sua cartabilità dal suo arterego E che significa? Che sono dei guai? Freyas, no! Le cose si mettono male Oh no! Freyas, ti prego, resisti! Scusa, mi dispiace, amico mio Io credo di non essere stato all'altezza delle tue aspettative No, è tutta colpa mia Ero talmente preso dai miei problemi che non ho prestato attenzione ai tuoi Non importa, Maruccio Sono orgoglioso di aver potuto combattere al tuo fianco Freyas è sempre Freyas Grazie per averlo detto, ma se questo è vero per me Significa che anche Maruccio è sempre Maruccio Non facevi passivamente ciò che ti ordinavano Volevi veramente far felici i tuoi genitori e renderli orgogliosi Sei una persona generosa, Maruccio Lo eri allora e lo sei adesso Sono sicuro che hai fatto dei sacrifici Ma se i sorrisi che facevi rendevano felici i tuoi genitori Allora non potevano essere altro che sinceri È necessario scendere a dei compromessi Per poter crescere e diventare il ragazzino in gamba che sei adesso Colui che noi tutti amiamo Quindi per favore cerca di non dimenticare mai il passato, d'accordo? Devi farlo per me Bene, sono contento Continua ad essere il Maruccio che tutti noi... E che noi... Non resisto Wow Adesso capisco tutto Mi sembrava che il mio malessere fosse un po' strano Ma a questo punto è tutto chiaro Ecco perché all'improvviso avevo tutta quella voglia di cibi aspri Ma significa che adesso ti è passato tutto Stai scherzando? Mi sento la grande Guardami, sono invincibile Uno a due Uno a due Per fortuna, che soglievo E ora al lavoro Abbiamo un combattimento da finire Ok, tu sei pronto fratello? Fratello? Mi hai chiamato fratellino? Io sono AccoSprayos Angelo Al tuo servizio Cosa? Non posso crederci Eppure è vero Vedi, la mia evoluzione contempla una moltiplicazione Evoluzione? Ehi, stai forse dicendo? Hai proprio indovinato La prova consisteva nel riconoscere e accettare il tuo passato Maruccio Quando sei finalmente riuscito a farlo A mia volta io sono riuscito a evolvermi e a moltiplicarmi Sì, credo di aver capito Ne deduco che tu sia la forma evoluta di Preyas Oh, povero me Ho scordato le buone maniere Piacere di conoscerti Sono AccoSprayos Angelo Non vedo l'ora di combattere al tuo fianco, padrone Grazie, il piacere è mio A proposito, io sono di attributo acqua Ho anche i poteri di un Bakugan di attributo luce Ah sì, ne approfitto per informarti Che mi stacco facilmente Ho bisogno di riposarmi spesso Voglio un lunedì libero al mese E io non pulisco i vetari Capisco Siamo sicuri che questa sia una buona idea, Preyas Al momento opportuno lui sa sempre cosa fare Avanti, fratello Che signore, ricevuto signore Su, diamogli una lezione Che buffone Oh, dimenticavo La carta battaglia tripla è stata attivata Cosa? Non mi piace Il livello di potenza di Preyas sale a 400 G Ragazzi, mi sento in gran forma Forza, ammirate questi muscoli Scusate se ti interrompo Ma abbiamo un lavoro da sbrigare Livello di potenza totale di Preyas è Angelo 800 G Sì, ce l'abbiamo fatta, amici Bene, bene Finalmente si comincia a fare sul serio È ora di ricorrere all'arma segreta Sai cosa devi fare? Cerca di non deludermi Non devi preoccuparti Bakugan, combatti! Frosk, trasformazione! Mamma mia, che orrore, che diavolo è quel coso? Tranquillo, è solo il suo mio aspetto Userai una carta portale battaglia tripla Sei così prevedibile E tu credi di essere molto furbo, eh? Beh, mi dispiace deluderti Un vero spaccio Preyas, trasformazione Cos'hai mangiato delle mosche? Carta portale, apriti ora! Battaglia tripla Preparati, Angelo Bakugan, combatti! Angelo, trasformazione! Salve, io sono Acquaspreyas Diablo In persona! Allora, chi è quel buffone che ha usato interrompere il mio sonnellino? Cospita! Chi è quel tizio? Che fine ha fatto Preyas Angelo? Beh, ecco, devi sapere che Diablo è l'alterego di Angelo Sì, insomma, è come se avessi due Bakugan al prezzo di uno Certo, è logico che sciocco Bene, invece l'avversario da eliminare è soltanto uno Quindi perché non ci mostri cosa sai fare, Diablo? Cos'è? Mi stai prendendo in giro? Mi hai svegliato per combattere con una rana Non sai che non ho tempo da perdere? Gli darò uno di questi E uno di questi E un sacco di questi! Se anche il livello di potenza di Diablo è 400G Livello di potenza totale di Preyas e Diablo 800G Livello di potenza di Frosk 500 Perfetto! Sarà uno scherzo toglierlo di mezzo Aspetta a cantare vittoria Carta abilità attivazione! Ciclone d'acqua! Visto cosa intendevo? La potenza di Frosk è aumentata di 200G Preyas e Diablo ne perdono 100 a testa Ho una brutta notizia State per essere risucchiati dal mio tornado d'acqua Ma... no, non può essere Avanti, muoviti! Usa la cartabilità relazione diagonale! La cartabilità relazione diagonale! Io ho i poteri dell'attributo Perus Se mio fratello diventa Darkus Allora puoi usare relazione diagonale fra Perus e Darkus Ma se non ti dai una mossa potrei arrabbiarmi moltissimo! D'accordo, chiedo scusa Attenzione! Cambia di attributo in Darkus! Cia cia cia! Carta abilità attivazione! Relazione diagonale fra Perus e Darkus! Livello di potenza totale di Preyas e Diablo 800G Oh cavolo! Ci siamo ora! Tocca a voi ragazzi! Lasciane un po' a chiame! Aiuto! Addio, ralocchio! Il nostro lavoro... ...è finito! Allora, come ti senti, Maroccio? Se ne accorgerà domani! Mi lieto di averti aiutato! Ehi, aspetta! Che c'è? Mi dispiace per come mi sono comportato Grazie a Preyas, adesso ho capito come stanno le cose A partire da questo momento ti prometto di accettare serenamente tutto il mio passato Perciò ti ringrazio e spero che potremmo essere amici senza vecchi rancori Ottimo lavoro ragazzo mio, ottimo lavoro Come? Hai vinto la tua battaglia e hai superato la prova Ti ringrazio, Frosk Adesso ti rimanderò dai tuoi amici Il mio nuovo soldato Arbus Arrivederci